Ragazzi, mentre vado lo psicologo, guarda chi è acchiappato. Grande Simo! High stylist, hard hearted. Stai bene? Grande. Va bene, volentieri, un bacione, vai piano. Grande, macchina cabrio. Mettila prima, vai. La Simona tagli. E allora, nipotini, che dire di questi fit check di Antonella? Lei sta bene con qualsiasi cosa le metti addosso, ma non volevo concentrarmi sui suoi outfit oggi, ma quanto sull'armadio, quel bendidio che viene poi spunta da quelli close e tanto di fendi, di borse, di griff. Farebbero invidia a Chiara Ferragni, il suo cagnolino invece fa invidia solo a me, sapete che è il momento dog, io ve lo metto sempre. Invece ci spostiamo da Perla Vattiero, clip inedita che io vi metto in anteprima, non l'aveva mai pubblicata. Lei con Luana Vattiero, giorno fa, che torna dal compleanno a Firenze, in taxi, ovviamente fanno impazzire il taxista, mentre più tranquillo, qui Mirko Brunetti, poi Samira Lui, chiudiamo con Vittorio. Ciao!